quattro team senza speranza raccolti dai bassi fondi delle ranked abbiamo affidato loro quattro impavidi coach due obiettivi scalare la ladder e vincere il premio finale una lotta senza esclusione di colpi e solo due mesi per mostrarci il loro potenziale loro ci credono e voi grazie a tutti grazie a tutti